Se perdo con il controller al contrario il video finisce ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno della dem shop Scrivere codice creatore forto così come vedete a schermo Accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Cioè no dico, no dico ma io cosa dovrei fare? Cioè io devo veramente giocare un game così ma state scherzando? No io ci posso provare se volete ma Cioè ok, ok, vai facciamo questo game, sono curioso, sono curioso, sono curioso Primo dettativo eh, primo dettativo, voglio giocarla così, voglio giocarla così Sono curioso, devi sapere come finisce sta cosa Ok, ok, giustamente il controllo, ok, ok ce l'ho ragazzi ce l'ho Ora costruisco pure, guardate, sono troppo bello, no vabbè No ma c'è qualcuno che veramente ci crede a sta cosa? No perché voglio dire non è che sia così semplice Vabbè ragazzi parlando di cose più serie Volevo dirvi comunque che ormai sono 5 mesi che io faccio streaming sul sito Viola Ogni sera infatti giochiamo assieme a Fortnite, Hyper Escape, Code Warzone Quindi mi raccomando ragazzi andate in descrizione nella sezione di live streaming e iniziatemi a seguire Quando l'ho letta sta sfida ho detto no vabbè Tanto finisce male Cosa potrebbe mai andare bene? Però poi ho detto Proprio per questo secondo me è la sfida giusta Io devo vedere i tasti Oh dove sta andando, dove sta andando, calmi, calmi tutti Eeeh vabbè, vabbè, un momento dicono forte se uno scarsone Non sai Ah quello da visuale la devo girare con quell'altro Ho già messo in palla Calmi tutti Ok Ok No da quell'altro lato fra Ce l'ho No raga ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho E' vinta E' vinta E' win E' win E' win Guardate con che maestria mi giro Guardate con che maestria mi giro Dai Entra nella porta Girati No si gira con quell'altro Open Questo è quadrato Mamma mia raga che problem Che problem Allora raccogli 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 Pia l'arma Mamma mia raga Troppo forte Ora prendiamo un po' di materiali No tanto Tanto lo costruisco Cioè Andiamo No no fra Però non mi devi fare incazzare Oh scendi No dall'altro lato Dall'altro lato Ok Ragazzi c'è un tipo C'è un tipo Io so che posso eliminarlo Io so di essere capace di eliminarlo Con che pulsante si spara Ok dovrebbe essere quello No sono bloccato Con questo si spara Ok 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 Calmi calmi Mi sto a pallare con la visuale Mi sto a pallare con la visuale Non riesco più a visualizzare Ok Io sparo Io sparo e ricarico Non fa niente Sparo e ricarico Nammo 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 No Ma chi è venuta in mente Stiamo alzando idea Tizio Non c'è un nemico C'è un nemico C'è una miseria Questo era pure scarso Era Non c'è un nemico 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 Non c'è un nemico